Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi vi vedo come avete capito dal titolo come trovare Leon che è un leggendario Io non lo provo perchè a me non mi funzionerà perchè ho trovato Dynamite da poco Vi dirò come trovare Leon Prima di tutto dovete prepararvi una cassa Una cassa non dovete averne ma io già ce ne ho Ce ne ho e non posso come si dice ma ne aprirò solo uno per farvi vedere che non c'è Aspettiamo che si carichi taglio quel video Ok ragazzi siamo ritornati Prima di tutto andate sulla chat Della chat del club Scrivete questo Aspettate ragazzi che qualcuno deve fare una cosa Ok siamo ritornati Scrivete questo Aspettate ragazzi come sempre Wow 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 Scrivete questo Wow 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 Scrivete questo Scrivete il nostro ashtag Che è questo Che è questo qua Aspettate 2G9 9UQ 2G9 2G9U U 3G9 C 5G9 Poi Q8P Q8P 3G9 C9P Poi Mandiamolo Poi Poi Dobbiamo farci due partite In due E io prenderò il rosa Perchè è molto adatta Ok se volete potete prendere quello che volete Ma dovete vincere coppe Non perderla Se perdete Dovete ricominciare il bug Rompiamo Spacchiamo Dai andiamo Non ti serve aiuto Ok andiamo Si l'hai preso Ok ragazzi superiamo i 7 like E faccio un nuovo video dove faccio vedere i glitch Il mio amico è in pericolo Aspetto che arrivo Sto arrivando No l'hanno massacrato L'hanno massacrato Il mio amico Il mio amico Aspettate Ok Io non prendo i power ups Ok Bravissime Non voglio prendere i power ups Perché voglio tenerli Per il mio amico Che così Saremmo super scarsuti No Dai Vieni qua robottino Vabbè se n'è andato Ok 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 Fatti ammazzare Fatti ammazzare Fatti ammazzare Fatti ammazzare Ok Non ce l'ho più Non ce l'ho più Addio Addio No Non andare da robottone Aspetta Non la prendere tu però Non te la prendere Con il mio amico No che ora prenditela Aiutami però Che cavolo Coli Coli no Ok Speriamo che abbiamo vinto Tre coppe No ragazzi Abbiamo perso Tre coppe Vabbè ragazzi Ricomincio Il bug Ok ragazzi Ho scritto il codice Un'altra volta Dobbiamo farci una partita In singolo Me lo sono dimenticato Di dirvelo Dirvelo Pratico Scrivete il codice Poi Andate In sopravvivenza In singolo E dovete fare due partite Dovete vincere coppe Non perderle Ok ragazzi Ok Un power up Ora due Quasi Ragazzi A me piace molto Fare Lo youtuber È un passatempo Molto bello Noi andremo Quando vuole la scegli E là c'è una Come me Ma Ma lei è molto più forte Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Raga No Dobbiamo perdere il trofei Dai Ammassalo Dai quanto c'è di te Conta su di te Voglio vai Bravissima Vabbè però mi ha ucciso No raga Cinque trofei Non ce la faccio Io perdo ogni giorno Più trofei Vabbè raga Se volete giocare con me Vi lascio Il mio codice Che qua Ve lo faccio scrivere XP 9 4 La D Poi la L Poi la D Ok ragazzi Vi aspetto Nel prossimo video Se volete venire No grazie Un bastione gigantesco Ok Ma andiamo con Vediamo Con Scegli No 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 Raga Siamo andati in arraffagemme No A me non piace andare in arraffagemme Perché perdo ogni volta E la nostra squadra è un po' Ok scappa Wow Siamo fortissimi No way 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 Mi hanno ucciso Vai Vai Poshu Ci hanno massacrato Lo scarico la ulti Ok L'abbiamo caricato Dai Andate a prenderlo Però quello l'ha rimbambito No Cavoli Cavoli Andate a prendere quel power up Visto Raga Sono troppo Scasso Sono troppo Scasso No No way No way È troppo forte Dai Prendete Che sto arrivando No way No way Scappa Stupidi Non riandatene Non è una parolaccia Raga Non vi preoccupate Che scappate No way No way No way Ok Io ti proteggo Vattene Vattene No way No way Non lo sto per battere No raga Forse non usava lo scudo Certo che ce la faremo No 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 442 No raga No way Raga 442 No way Vabbè abbiamo perso Ok ce la facciamo Sì No raga Vabbè raga Abbiamo perso Niente Vabbè raga Rifaccio la sopravvivenza Prima di tutto Scriviamo un'altra volta Mister raga Vabbè raga Vabbè raga Vabbè raga Ok Andiamoci a fare una partita Non c'è Provivenza In singolo 9 minuti Raga Toglio quel video Ok ragazzi 3 trofei in più Non male Ok Ci faremo un'altra partita Io Toglio quel video Ok ragazzi Abbiamo vinto 7 trofei Ragazzi Voi dovrete farvi Come si dice Una cassa A me non mi funzionerà Finisce quel video Iscrivetevi al canale Lasciate un like E condividete il video E ci vediamo Nel prossimo video Di un glitch Arriviamo a 5 like E facciamo un altro glitch Bella raga